Allora, va bene, io direi che possiamo cominciare con i pullini, vediamo un pochettino che cosa succede oggi. Allora, andiamo prima con il ticket free, vediamo se magari abbiamo il miracolo, il miracolo di mezz'estate. Eccola, questa è la bitti di Gladio, bella vero? Vi piace la bitti di Gladio? Allora, andiamo sul banner All-Stars, dove qui... no, aspetta, non c'è qui, c'è tattica... ah, Crystal Chronicles! Quindi potrebbe uscirmi l'LD di Lyle. Potrebbe uscirmi l'LD di Lyle. Chissà se il meme finirà un giorno. Chissà se il meme finirà un giorno di questa cosa, ma sicuramente no. Cosa fa di preciso l'abitti di Gladio? Sai che non me lo ricordo? Oh! Cioè, l'ho letta stamattina e non me la ricordo. Anche perché stamattina l'ho letta che erano le 6 di mattina, sinceramente. Vabbè, dà comunque gli stessi buff al party, ora comunque la leggiamo insieme, non vi preoccupate che... la andiamo a recuperare insieme. Allora... Prima facciamo l'agri-pull qui. Magari l'abitti di Beatrix? Oh! Attenzione, FR... Però non ha fatto loading, quindi mi sa che questa è quella di Bea. Eeeh, non c'è stato il loading. Non c'è stato loading, quindi secondo me è quella di Bea. Non c'è stato loading. Purtroppo non c'è stato loading. Dorgan. Ex di Dorgan a caso. E invece no! Attenzione! 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 FR di Gladio? Buona! Buona, però aspetta! Niente, i token non ce li abbiamo, quindi siamo costretti a dare la precedenza a Mr. Muscolo. Però... Però... Ciao, Dio bello! Però... Eh, volevo usare i token. Eh, volevo! E invece... E invece... E invece... L'ho presa lì. Mr. Muscolo. Va bene. Allora, primo ticket viola. Dai. Vediamo. Dai, BT di Gladio. Sì! Sì! Possiamo tentare Bea. Possiamo tentare Bea. Possiamo tentare Bea. E tra l'altro Gladio ce la facciamo verde e blu. Perché Gladio se lo merita. Se lo merita. Se lo merita, Gladio. Se lo merita. Ulaone, ulaone, ulaone. Dammi cinque numeri da giocare all'otto. Ecco, dammeli anche a me, per favore. Sono sicuro... Allora, io sono sicuro che Dom... Ha messo quest'arma a Gladio. Come estetica. Io ci scommetto. Io ci scommetto. Che in realtà non è neanche brutta. Non è neanche brutta. Però... Mmm. 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 Eccoci. Io lo sapevo. Lo sapevo. Io ero sicuro. Ne ero convinto. Ne ero convinto. Io ne ero convinto. Ne... 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 Io ne sono convinto. Perché quando si tratta di mettere... Ehm... Quando si tratta di mettere armi che non sono esteticamente un granché, Tu sei praticamente l'opposto di quello che faccio io. Ecco, la skin delle LED è molto bella. Eccoci qua. Pronti. Vai, Btt di Bea e oggi si viaggia. Datemi anche la Btt di Bea e oggi si viaggia. Veramente. Oggi sbanchiamo se prendiamo anche la Btt di Bea. Eh, però chiedo troppo. Mi sa che chiedo troppo. Chiedo troppo. Si viaggia in prigione. Si viaggia in galera. In galera. Ti prego. Io credo nel cuore delle carte. Madonna. Direttamente orba azzurra. Però dalla orba azzurra potrebbe succedere tutto. Potrebbe succedere tutto dall'orba azzurra. Noi ci possiamo sperare. Ci possiamo credere. Ci possiamo credere. No, mi sa che... Ehm... Eh, vabbè. Però... Io non demordo. Abbiamo... Abbiamo qualche ticket. E' che però 600 con i 400 che prendo... Arrivo a 1000. Quindi non posso neanche tanto sprecarne di ticket. Non posso sprecarne di ticket. Ne potrei buttare un centinaio giusto per il meme. Così arrivo a 500. E poi con i 400 ritorno a 900 ticket. E' perché mi sento... Non lo so. Mi sento qualcosa. Sento che i pianeti si sono allineati. Sento come se i pianeti si fossero allineati per farmi trovare anche Beatrix stasera. Non lo so. Io sento... Sento questo. Va bene. Arrivo a 500 ticket. Oltre non vado. Mi sento... Mi sento questi ticket. Me li sento. Me li sento questi ticket. Questi ticket... Dobbiamo crederci. Ci devo credere. Ci devo credere. Madonna ti prego. Non mi fare pentire di questa scelta. Bea. Ti sto dando... Ti sto dando una grossissima opportunità. Ok. Orb viola che... Schifo non mi fa. Potrebbe trasformarsi. No. Sto mese ormai è finito. Quindi. Ora dobbiamo aspettare il mese prossimo. Ormai di sto mese praticamente ho preso tutti. Cioè è finita che ho preso tutti. Vai. Trasformati. No. Vabbè. Fr di Bear. No. Tecnicamente non c'è un altro personaggio dopo Gladio. Perché entreremmo in teoria nella schedule di settembre. Oddio. Altra... Altra... Orb viola. Back to back. Attenzione. Back to back. Orb viola. Che potrebbe trasformarsi. Noi siamo... Noi siamo concentrati. Concentriamoci. Orb viola che si trasforma. Orb viola che si trasforma. Orb viola. Che si trasforma. No. Altra FR di Beatrix. E tanto io la FR di Beatrix già l'ho maxata. Quindi in realtà... Mi avrebbe fatto comodo la FR di Gladio. Sinceramente. Almeno... Avevo delle copie in più. Però... Concentriamoci. Mettiamoci in posizione di concentrazione. Mi concentro. Dai. Trasformati. No. Vuoi dare il farming delle chiavi? Fai la Spiritus di Gladio in solo. Addirittura. No. Ma dai. Voglio farla... Voglio farla arricchita. Che sì. Vabbè. Avendo Gladio con BT ed FR la posso fare in solo adesso. Questo è anche vero. Però no. Non la voglio... Non la voglio cisare in questa maniera. Concentriamoci. Concentriamoci. Niente. E' di Dorgan. Allora. La condizione dell'FR so che vuole danno fisico... Danno fisico. Se non sbaglio. Giusto? Dai. Orba azzurra che si trasforma. Ci possiamo credere? Is possible? Is possible? No. Niente. Va bene ragazzi. Ci abbiamo provato. E' stato bello. E' stato un piacere. Però. Ahimè. Beatrix non me la dà. Eh vabbè. Beatrix è fedele. Giustamente. Che è fedele con Steiner. Quindi giustamente non me la vuole dare. E io rispetto... Rispetto la sua opinione. E quindi dico. Va bene. Scusami. Per averti importunato. Io non... Non dico più niente. Basta.